A me piacerebbe sapere di più di te. È fondamentale che certe cose me le fai capire prima. Non intendo comunque affrontare tutto questo percorso completamente a cuore aperto. Io lo sto facendo però. L'ho sentito fin dall'inizio di potermi fidare di te. Cioè mi ha ispirato fiducia fin dall'inizio. E sei l'unica con cui ho questo sentimento. E per me la fiducia è la base di ogni rapporto. Anche per me assolutamente. Vorrei sapere il più possibile, vorrei conoscerti il più possibile. Sempre di più. E' che ho sempre paura di, non so, di avere quasi un muro dall'altra parte. Perché mi ha? Eh. In realtà così non è. Perché è un muro? Sono persone aperte del mondo. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso aperto. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'avvarenza e prendi senso. E ascolta quello che ho detto.